Il punto Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, e componenti dell'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo hanno incontrato il 14 marzo i rappresentanti dell'Associazione Libera in merito alla piattaforma L10. Un incontro importante con gli amici dell'Associazione Libera, con la quale abbiamo da subito impostato una grande collaborazione. Vittime del terrorismo, li dobbiamo ricordare affinché non ci siano più questi aspetti, quindi ci troveremo in Piazza Castello mercoledì 21 marzo, insieme a tanti amici, e poi il punto sulla situazione dell'applicazione in Regione Piemonte della piattaforma L10. Qualche cosa è stato fatto, ci poniamo due obiettivi, il primo con la risultanza dell'attività delle commissioni di inchieste e di indagine sugli appalti di modificare eventualmente la nostra legislazione, il secondo approvare al più presto l'anagrafe degli eletti dove a 360 gradi sul sito della Regione del Consiglio regionale la gente potrà vedere cosa fa, chi è e come ha fatto a diventare consigliere regionale in singolo appartenente al Consiglio.